Prende il via il 21 gennaio la sedicesima edizione di Strade. Si tratta della rassegna teatrale ospitata al Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio Nevestini in provincia dell'Aquila. Saranno cinque in totale gli appuntamenti nel cartellone di strade che a domeniche alterne si dipanerà fino al 17 marzo. Lo spettacolo che aprirà la stagione è I giganti e noi, ispirato ai giganti della montagna di Luigi Pirandello, prodotto da arti e spettacolo nel trentennale dall'avvio delle sue attività. Abbiamo pensato di affrontare questo testo che è molto complesso, sono anni che non viene più affrontato e perché in qualche modo questo luogo in cui Pirandello fa incontrare una compagnia di teatro e una serie di persone marginate ci ha offerto l'occasione per riflettere su questa condizione e per esplorare, utilizzando chiaramente la competenza di una drammaturga, Stefania Marrone, che è pugliese, siamo riusciti a ricostruire questo testo, riambientandolo in un contesto che è molto più attuale, discute di teatro, delle crisi del teatro, ma soprattutto discute di come sia diventato complesso far convivere delle fragilità umane sia che appartengano all'arte e sia che appartengano alle fasce sociali più emarginate. Il cartellone 2024 di strade non ha un tema dominante, propone invece spettacoli selezionati per la loro qualità artistica e per la capacità di restituire al meglio tutte le diverse sfaccettature della forma teatrale. È un cartellone che tiene conto dell'offerta diversificata che noi sempre portiamo avanti, proprio per offrire più possibilità agli spettatori di comprendere quelle che sono le varie forme, i vari atteggiamenti che ha oggi il teatro contemporaneo. Noi siamo in convenzione con la scuola Palo Grassi di Milano, che ci seleziona la compagnia che ritiene più idonea, formata al loro interno ma che affronta il mercato magari per la prima volta e noi spesso siamo solidali con tutte queste forme nuove dei giovani che hanno ancora voglia di fare teatro e riescono a concludere, allestire uno spettacolo, viste le difficoltà che ci sono adesso nel mercato.